La conferenza stampa attesa non c'è stata o non c'è ancora stata, ma ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rotto il parziale silenzio delle ultime settimane con la lettera pubblicata sul sito nella quale si è scusato per gli errori commessi che hanno portato alla retrocessione ed ha espresso la voglia di voltare pagina, intraprendere un nuovo percorso per allestire una squadra competitiva che possa lottare per la risalita in Serie B. Questo dunque è il momento delle riflessioni in attesa di scelte subito decisive. Il primo pensiero va al personale ma in realtà il presidente Sebastiani in queste settimane dovrà lavorare anche per capire il budget per la prossima stagione. C'è il paracadute per ammortizzare il passaggio dalla Serie B alla Serie C che sfiora i 2 milioni di euro. Ci sono strumenti utilizzabili nella terza serie come il minutaggio degli under, una strada sì percorribile ma che condiziona tanto le scelte dell'allenatore. Una soluzione che è portata avanti nella stagione con costanza può portare nelle casse sociali cifre che si aggirano sul mezzo milione di euro. Una boccata d'ossigeno per club che puntano sui giovani e che spendono poco ma che possono essere di minore utilità per società che puntano a vincere un campionato e per farlo approntano budget considerevoli. Ci sono ancora incognite sui ricavi da botteghino? Sebastiani continua a muoversi anche per trovare partner che lo possano affiancare in società. È forte il legame con il presidente del Pineto Silvio Brocco ma è da valutare se e come coinvolgerlo e se c'è la volontà del patron pinetese di vagliare questa ipotesi. Passando poi alla direzione sportiva è estremamente probabile l'avvento di una nuova figura in bilico la permanenza di Giorgio Repetto nell'organigramma del Pescara nel quale Antonio Bocchetti potrebbe restare ma con altro ruolo magari più legato al settore giovanile. Negli ultimi giorni circolano svariati nomi. Un tris di direttori accostati al Pescara sono gli stessi che vengono accostati ad altri club blasonati di serie C o serie B. Il pugliese Domenico Fracchiolla attuale DS del Lecco, il Maremmano Luca Matteassi attuale DS del Modena e il Salentino Stefano Trinchera DS del Cosenza. Tutti e tre oltre che al Pescara sono affiancati al Bari che ha un playoff da giocare ma pensa già alla prossima stagione. Trinchera dato per altro vicinissimo alla Cremonese. E poi altri nomi tra questi quelli pescaresi di Armando Ortoli e Fabio Lupo i quali hanno peraltro lavorato insieme a Venezia fino allo scorso agosto. Di certo c'è la volontà di tornare a potenziare l'area scouting. La scorsa settimana sul portale Calcio a 5 Live lo scoutman del futsal Fabrizio Correra ha annunciato la nuova collaborazione con la Pescara Calcio. Sarà una prova molto stimolante. Voglio capire se per il calcio a 11 ho lo stesso intuito che ho per il futsal, ha detto lo stesso Correra. Fatta la scelta del DS poi si passerà a quella dell'allenatore. Sembrano in ribasso le quotazioni di Gianluca Grassadonia che è molto legato ad Antonio Bocchetti. Alcuni tifosi del Delfino hanno già la loro opzione Zdenek Zeman che proprio oggi compie 74 anni. Auguri! A favore del Boemo è stata lanciata una petizione su change.org. Peraltro giorni fa il sito partenopeo areanapoli.it aveva riportato indiscrezioni che vogliono Zeman sulla panchina del Pescara nel prossimo anno. Qualora si verificasse questa ipotesi sarebbe la terza parentesi bianca azzurra del Boemo. Sul fronte mercato calciatori oggi incontro tra il presidente Daniele Sebastiani e l'agente Mario Giuffredi che ha diversi assistiti ancora sotto contratto col Delfino. I vari Memusciai, Scugnamiglio, Busellato e Valdifiori. Mentre il portiere Vincenzo Fiorillo dopo sette stagioni potrebbe lasciare Pescara e trasferirsi al Verona.